Buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo no vabbè sta pieno anche questa mattina guarda mamma come le volete guarda mora riccia ma tutto qua sta pieno guarda va sta pieno le fiori guardate non c'è un'anima ma nella mia testa è pieno di figa sempre raga sognate sempre che prima o poi s'avveterano ma guarda che dici va via va buongiorno cuccioloni come state come si abbassa ma buongiorno 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 sto cazzo no ma perché così dici eh tu questi bigodini che fai guarda che bigodino sempre contenti di vedermi nonno oh eh che ho fatto ma che ho fatto ma io lo sai che ho fatto che ho fatto che ho fatto dove andai io come dove andai a panculo oh ma adesso inizia una mattinata inizia un sabato fantastico ragazzi fantastico oggi qua oggi con la mamma come ogni sabato buongiorno eh certo pronti sabato ginico sabato ginico all'aperto oggi una bella giornata e via dai allenati allenati dai 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 allenati forse dai io manco tu allenati allenati dai quanti belli schizzetti stamattina sound giusto bellezza tu poca eh controlla tirami questa canzone adescavo oh no ah li state qui quanto è bellino tutto bello grigio topino beh fermati però quanto è bello si fammi sentire il cinci là ah fammi sentire il cinci là ahia ora come rire è felicissimo perché quando tu vai là e gli fai sentire il cinci là ahia lui è contento chiappici chiappici ti trema al braccio ti trema al braccio ti trema al cazzo nooo eh buongiorno 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 oh ma sai sui giornali oggi ho letto che il papa si rimette va via che lui è buono eh ha mai l'ultimo come me va via ma 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 l'ho letto eh che si vuole rimettere va via è vero è vero si vuole rimettere no non si rimette è bravo ha detto una bestia ha detto una bestemmia al papa ma 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 è vero è vero ha detto una bestemmia ma mi ha detto una panellata della testa ha detto una bestemmia sta via il papa ha detto una bestemmia sta via sta via ha bestemmiato il papa ha bestemmiato il papa secondo te ha bestemmiato il papa? no vai via eh che ha fatto? ha fatto i cazzo sui ma ma chi? il papa? si si fa sul serio tada quanto è bella la punto drillo guardate quanto è bella zaccati no vabbè sta pieno io non è che mi fido tanto di te nemmeno io di te sono molto più tranquillo così anch'io sono più tranquillo così ha detto anche la cinta è vero ecco Nicola alla griglia fuoco cannelloni tu che hai detto bisogna avere per mangiare cannelloni che hai detto sull'altra storia la vuoi fare quella tua? che hai detto prima sulla storia? guarda che bello guarda che bello anche lui bello che la vita di una quote 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 parla strano dopo una quote delle salsicce libero che aspettavo rally giù allora pronti ma le montiamo adesso? abbiamo la roba per montarle si tu caccia la viti ci saranno wow tac mamma mia non so quanto dureranno però no parecchio parecchio top guardate che lavoro francese aiuta da giulio eccola pronta eh grande grande questo questo il fungo è velenoso ma tanto lui digerisce lo stesso è vero? si si come si è comportato? io mi sono impegnato tantissimo ma lui si comporta male perché? perché botte calci ma no come sta il cincillato? io guarderei il cincillato fammi vedere il cincillato cominciamo a rompire il cincillato fa vedere il cincillato fa vedere il cincillato fa vedere il cincillato fermo piccillato guarda che calzino la michael jackson mamma mia questo è da ballerino guarda guarda non caccia sono farsi questa è vera grana guarda Antonello venditti grana patana fermete grana patana fermete fermete la trucco eh 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 ma motorino ma motorino che passa bene che pistone ma che stai che stai passando ai pistoni ma non c'è ma non c'è hai passato ai pistoni eh eh ma c'è ma c'è fatizione adesso fa 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 Che hai rubato? Eh? Oh Che hai rubato? La fica? Proprio Rana dove sei Rana? Noi stavamo qua Rana Stasera Come? Che vuoi dire stasera? Che ho da dire? La parola tua Ma fa Ma di sempre quella Eh? Che ho da dire? Andate tutti? Fa 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 Tutti? Salvi qualcuno? Eh Se c'è qualcuno che ci vuole andare non ci va Eh Però tu? Che suggerisci? Io fuori parto uguali Quindi? Ma va a dormire Mentre sta a rompere l'animo Dopo di andare a dormire Dove andare a dormire? Dove andare a dormire? Eccolo Dove andare? Affanculo E poi? E poi? Oh Vattene! E poi?